quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo e bentornati a risolto giallo dalla vostra alessia sorgato che oggi reincontra uno scrittore che è già stato ospite nostro e come vedete la sua capacità prolifica di di editare si manifesta col fatto che dopo solo un anno è di nuovo qua massimo bertarelli bentornato grazie un piacere allora con massimo stavamo dicendo fuori onda che la precedente ospitata era nel vecchio studio di risolto giallo quindi quanto tempo è passato io ho detto un anno e penso anche un po di più perché l'altro romanzo è riuscito a marzo del 2022 e quindi se non era ancora verso la fine 22 era l'inizio del 23 quindi potrebbe essere sì perché secondo me questo studio è stato ristrutturato nel 23 quindi allora sì beh fantastico cominciamo a farvi vedere la copertina del newborn il nuovo nato due spari al parco lambro gran bella foto con le caratteristiche tipiche della linea dei nostri amici fratelli frilli ossia questa bella e in fondo e questo tocco di arancione becco di papero che te li fa riconoscere in libreria immediatamente vogliamo parlare subito di lui del piccolino o vogliamo fare colino un rewind sulla cabala noir e cabala noir è stato il primo di una serie direi che una serie fortunata almeno al momento è partita bene perché in maniera del tutto non preventivata io non sono tipo da partecipare a concorsi letterari però da ex maratoneta l'istinto mi ha portato a dire ma sì ne facciamone uno mi sono iscritto al concorso letterario città di arcore è proprio a due passi da casa mia perché lui è un parentato con berlusconi lo sapete no 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 si può non dirlo quello proprio no alla fine a settembre sono stato invitato alla premiazione in nel concorso sarà arrivato secondo ma siccome il vincitore era un libro di racconti il primo romanzo del concorso era il mio ed era la cabala noir ed era cabala noir per chi non avesse seguito quella puntata andate su spotify andate su youtube alla voce risolto giallo massimo bertarelli ritroverete noi più giovani forse avevo anche qualche cappello in più io sicuramente li avevo molto più lunghi perché mi hanno spettinato e spulciato adesso però però noi oggi siamo qua con il battesimo innanzitutto però diciamo la cosa più importante ossia che il tuo personaggio principale è rimasto il medesimo certo è partito come vice questore aggiunto eri tomba masselli ormai è diventato per tutti solo il tomba e basta ma questo cognome così particolare come ti venne venne perché alla fin fine dovevo dare un nome al protagonista il protagonista che avevo creato in maniera seriale quindi pensavo di portarlo avanti per molti romanzi e cercavo un nome un po particolare te lo sei inventato esiste no no esiste come perché se tu fai l'anagramma di massimo bertarelli esce eri tomba masselli per favore lo fai di alessio assorgato vediamo cosa viene dopo ci penso ci vuole un po di tempo perché ho fatto dei tentativi e venivano fuori delle cose assurde alla fine mi è venuto fuori questo ero incerto sul nome eri poi ho detto no c'è eri de luca famosissimo scrittore ma la cosa più bella è quando mi sono accorto che per i miei amici quelli anche storici o mi chiamano max o mi chiamano bertha quando ho capito che il tomba masselli può diventare tomba ho detto no non è possibile ho trovato anche approvato a posto io che ti avrei chiesto da che regione proviene no ma che arriva da te noi abbiamo avuto qui tante volte paola varalli voi la ricorderete la simpaticissima paola varalli fa le frasi palindrome adesso sappiamo che bertarelli ha gli anagrammi i nomi e i cognosti è pericoloso questi scrittori ci hanno due cervelli sempre detto quindi il nostro tomba masselli tra la cabala e il parco lambro che cosa ha fatto di bello è stato promosso ma no è passato pochissimo tempo perché io in questa serie non dico che come finisce uno a livello temporale comincia l'altro cioè cabala finiva all'inizio dell'estate e questo comincia all'inizio dell'autunno passati pochi mesi nella sua vita non è cambiato assolutamente niente è sempre lui e comincia con una seconda storia ma è la seconda storia per me è il primo passo della sua evoluzione come uomo eh sì eh sì eh sì adesso vediamo se lo diciamo anche a loro o meno però per chi li ha letti tutti e due effettivamente si è reso conto il personaggio sta evolvendo però parliamo dell'incipit perché l'incipit è carino è una bella situazione particolare che piacerà molto soprattutto a chi frequenta milano o a chi ci vive perché il nostro tomba sta facendo una cosa che di solito i commissari non fanno proprio così all'inizio di un romanzo no almeno lui proprio non lo fa assolutamente perché beh chi ha letto il primo lo sa dopo la morte della moglie lui è rimasto vive solo per il lavoro e una delle rarissime volte che dice questa sera mi concedo una cenetta al ristorante chiaramente da solo guarda caso se non gli deve capitare qualcosa di storto ma un povero tomba cosa gli succede questo lo possiamo dire perché è scritto un po' su tutte le sinossi è arrivato al dolce quindi alla fine di questa sua cenetta solitaria nel ristorante che ormai c'è lui soltanto un'altra coppia ed entra dentro una un giovane un uomo ferito ferito un fianco si tampona e prima di svenire racconta al tomba cosa gli è successo era lì vicino nel parco lambro e dice che per rubargli il motorino per fare una rapina gli sparano gli racconta altre due tre cose poi sviene a questo punto il tomba lo soccorre va in ospedale la mattina dopo lui va in ospedale perché chiaramente deve il suo quando lui può andare incontrarlo sa già benissimo che di tutto quello che gli ha raccontato l'unica cosa vera è che gli hanno sparato perché di tutto il resto tra i rilevi della scientifica e chi l'ha operato risulta che non può essere quello che lui ha raccontato all'inizio a questo punto il tomba capisce che c'è qualcosa che non va vuole indagare ma di fronte alla reticenza di questa persona anziché fare come farebbe un qualsiasi altro indagatore no io so già tutto ti accuso lui comincia a giocare ad astuzia dice io ti ho dato una possibilità tu mi stai prendendo in giro vediamo chi dei due più furbo e lui mette in pratica una cosa che a me piace molto che sono un grandissimo lettore di camilleri è una cosa che fa fare a montalbano spesso e volentieri e che si chiama lo sfunna pedi che proprio far cadere in trappola qualcuno e lui mette in pratica uno sfunna pedi fa credere a questo signore che quello che gli ha detto va bene loro si muovono così con le indagini in modo che lui stia tranquillo non si crei problemi lui agisce chiaramente tutt'altra maniera e aspetta che lui prima o poi si tradisca convinto di averla fatta franca e questo è l'inizio di un'indagine che poi lo porterà anche nell'oltrepopavese si scopriranno tante cose e quindi come vedi il tomba non sta solo a milano ma incomincia anche a girare un pochino ecco e qui se ci fosse niccolò partirebbe subito la domanda di geonarrativa che a lui ma anche a me piace molto che è questa noi ti abbiamo conosciuto come milanese di origine e comunque come ambientatore a milano e ti incontriamo qui invece che il tuo personaggio ne esce fai dei sopralluoghi oppure semplicemente scegli dei luoghi che conosci già molto bene per cose tue personali luoghi che conosco in questo caso particolare mi serviva un posto non troppo vicino a milano per il semplice fatto che penso che si possa dire tranquillamente in questo romanzo ci sono due indagini questa l'indagine del parco lambro è tratta da un fatto reale una cosa veramente successa anni fa e che io ho scoperto per caso leggendo una notizia su internet nel senso che c'era un ragazzo a cui avevano sparato che diceva che gli avessero rubato che entra in un ristorante dice quello che è successo cioè la parte dell'indagine e io ho cercato di stare il più fedele possibile a quello che ho potuto capire da resoconto chiaro romanzato però effettivamente quando ho scoperto che anche nella realtà gli inquirenti avevano capito subito che c'era qualcosa che non andava alla fine hanno impiegato quattro mesi per arrivare a capire che cosa c'era dietro è pochissimo cioè un'indagine però alla fine si hanno scoperto hanno preso chi è stato chi non è stato hanno capito tutto l'unica cosa che non hanno capito ed è forse il filo rosso di tutto il romanzo collegato alla seconda indagine è che il perché continuavano a mentire che cosa c'era dietro non sono riusciti a farselo dire e lì interviene lo scrittore se lo inventa diciamo che l'ho lasciato anche io un po mezzo in sospeso ho dato una mia lettura cioè ho fatto capire cosa poteva esserci dietro in funzione anche degli altri personaggi che arrivano nel romanzo però siccome nella realtà realmente non hanno capito che cosa c'era dietro perché non gliel'hanno detto io ho inventato qualche cosina per far capire al lettore che si poteva essere una di queste cose non è detto che sia così non posso avere una copia del romanzo all'investigatore no perché lo diciamo con tanta modestia ma non esattamente il romanzo che ho scritto io che parte da un fatto reale recentemente ha evitato un'archiviazione quindi a volte noi che semplicemente ci riflettiamo a mente fredda perché non siamo calati dentro all'indagine non siamo parte della procedura magari semplicemente dai dati oggettivi è certo ipotizziamo e ipotizziamo bene nel mio caso ho visto che sono andati a processo ci sono state le condanne quindi era tutto chiaro cioè l'aggressione chi era stato e così era tutto chiaro mancava quel famoso movente del perché questo ragazzo aveva raccontato sta storia del motorino che non era vero e c'era dietro un discorso di soldi di tanti soldi quindi hanno capito che era un problema io ti devo dare non te li do e tu non me li dai allora succede questo e quest'altro ma il perché di quel debito da cosa derivava non hanno voluto dirglielo e come noi lo diciamo sempre ai risoltisti nel processo penale italiano capire il movente non è assolutamente indispensabile necessario sì interessante sì per fondare una tese accusatoria ma se poi non lo si riscontra non lo si trova si va avanti lo stesso a differenza dal sistema americano quindi niente sopralluoghi solo posti che conosci questo sì vabbè questo sono passato attraverso almeno al ristorante sarai andato a mangiarti una zumbetta al ristorante ci sono andato più di una volta a mangiare no sono passato lì davanti ho scelto il punto esatto del Parco Lambro dove ci fosse un ristorante che confina proprio con il parco è nella zona nord in una parallela di via Palmanova ed è quello dove era capitato il fatto reale? no no il fatto reale era da tutt'altra parte che fortuna due ristoranti al Parco Lambro quello l'ho trovato poi magari ce ne sarà qualcun altro ma quello mi piaceva perché come esci dal parco c'è davanti questo ristorantino pizzeria e a quel punto ho detto ma sì dai la zona un po' la conoscevo il parco proprio lì è il parco reale quindi entri dentro ci passa proprio anche il fiume lì vicino e non sei andato a mangiarti la crostata famosa quella sospesa lei per il momento non sono ancora andata allora qui bisogna organizzare una presentazione dentro il ristorantino e bisogna mangiare esattamente quello che Tomba Masselli mangia la prima ma soprattutto la seconda volta e qui noi ci guardiamo con fare un pochino malizioso che si può dire della seconda cena di Tomba in questo luogo? un altro ferito? la seconda cena no il romanzo inizia lì mi piaceva farlo finire lì perché nel corso dell'indagine il Tomba incontra una persona la prima volta non è un incontro ma è proprio uno scontro mamma mia cioè si prendono proprio male accornate poi il caso della vita li fa rincontrare in una situazione molto più rilassata e incomincia questa conoscenza rilassata per loro perché normalmente tutti i comuni mortali in quella seconda situazione si accapigliano leggi a riunione di condominio esatto quindi io lo so che bel condominio sia quello del Tomba ci andrei a vivere condominio tranquillo eh sì da noi i casi sono due o ce la prendiamo tra di noi ce la prendiamo con l'amministratore qualcuno fa sempre la fine del topo sì e questa è l'evoluzione del personaggio esatto è un personaggio che chiaramente nasce tutto dal profondo dolore che ha della morte della moglie lui pensa che ormai la sua vita sia quella non possa più cambiare però la vita a tutti noi regala sempre qualcosa di diverso e lui regala questo incontro è un incontro che potrà avere degli sviluppi però non si sa poi il Tomba effettivamente come vorrà approcciarsi se si sentirà pronto per mettere da parte questo dolore e provare un... non è detto cioè in questo romanzo è giusto il primo incontro per farli conoscere mettiamoli gli ingredienti mettiamoli lì poi dopo nei prossimi vedremo nei prossimi Massimo è fantastico nei prossimi ne sto già pensando almeno due non uno due anzi forse l'ha anche già scritto qualcosina forse nota nota di colore anche qui tanta musica sì la musica è la colonna sonora beh è stata la colonna sonora della mia vita io sono una capra bestiale per esempio suonare e cantare io ho provato insomma sono un giovane del 68 a quell'epoca tutti giravano come almeno con una chitarra in mano io ci ho provato giusto per portarla in giro tipo cagnolino e basta perché o me la tiravo in testa non c'era verso di farla suonare cantare peggio che peggio e invece sei un bel basso eh sì va bene andavo allenato forse no però la musica sì sempre sempre ho ascoltato musica sono cresciuto con certe generazioni di quella musica di quegli anni l'ho portata avanti e quando si è trattato di scrivere i miei romanzi in tutti volevo mettere una colonna sonora diversa sono partito con i Pink Floyd e qui arrivo con gli Eagles che sono la non solo la grande preferenza del Tomba chiaramente anche la mia e vedo che oltre a lui c'è anche qualcun altro che gradisce quel tipo di musica e qui io mi innesto con una una domanda un po' personalizzata ma perché è appena accaduto e ti chiedo questo ti è capitato di avere riscontri da parte di lettori di altra generazione rispetto alla tua cioè conoscono questa musica piace loro? sì quando dico gli Eagles vedo che magari c'è quell'attimino però poi basta dirgli non so Hotel California ah sì certo certo ma vedi che e allora arrivano e poi dopo si ricordano anche le altre no anche perché è una band storica e quindi te lo chiedo perché è successo proprio lo scorso weekend che mia nipote ovviamente ha ben altra età rispetto a noi si è andata su mia sollecitazione a vedere quel film meraviglioso ambientato a Tokyo di cui non diciamo il titolo ma abbiamo capito tutti che si tratta di Perfect Days e quando è uscita la prima cosa che mi ha detto è stata devo recuperarmi la colonna sonora e a me ha stupito perché stiamo parlando di non so se l'abbiate visto anche lì credo che siano le nostre musiche almeno le mie lo sono sicuramente ma sono cose che non ti aspetti che da gente così giovane possano essere interessanti e invece sì e invece sì quella è musica immortale questa cosa è la cosa bella la tecnologia per esempio un canale come YouTube dove anche qualsiasi giovane guardandosi in giro va trova degli artisti che non conosce e se ha la fortuna di capitare su certi live cioè registrazioni live li sente suonare li sente cantare e capisce subito che c'è una differenza enorme a me piacciono anche quelli moderni i giovani li ascolto anche volentieri ma io quando sento un concerto da vivo degli Eagles dei Toto dei Pink Floyd per me è un altro ti mi voglio scrivere un libro no è un altro mondo un'altra generazione io ho visto l'ho scoperto settimana scorsa un live benefico che hanno fatto in Belgio dove c'era Anastasia c'erano c'erano i Toto e io vedevo sotto il palco c'era una ragazzina alta così che le cantava a memoria le canzoni dei Toto evidentemente i suoi li le hanno usate come Ninna Nanne un po' come mia nipote c'ha gli 883 come Ninna Nanne giusto per dire le generazioni comunque a questo proposito ieri sera Enrico il mio compagno stava cercando un live dei Beatles perché deve prepararsi per il saggio di batteria e deve suonare Penny Lane e si è imbattuto in uno ma poi ne abbiamo trovati tanti altri un fake ossia c'è un video dove si assume che Frank Sinatra canti Bohemian Rhapsody tant'è vero che noi grandi appassionati dei Queen ci siamo detti ma quindi non è sua Bohemian Rhapsody siamo andati a sfrugugliare e poi abbiamo scoperto che è un fake un grande imitatore di Frank Sinatra che canta Bohemian Rhapsody l'unica cosa che dovete cercare su Youtube perché è vera sono le puntate di Risolto Giallo questo non ci scappa siamo qui in carne e ossa allora prima di salutarci che tu stia già scrivendo l'abbiamo capito se c'è tomba Masselli lo possiamo dedurre quello che non capiamo è quale complesso sia il protagonista musicale della prossima avventura sempre soltanto gli Eagles ancora gli Eagles sempre gli Eagles anche perché sta diventando la colonna sonora non tanto sua ma di due persone e quindi si trovano si sono trovati bene anche per quello vedremo come andrà a finire vedremo e dallo sparo numero 1 e dallo sparo numero 2 tutti e due al Parco Lambro arrivederci a presto ciao a tutti grazie quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo a risolto giallo